Buonasera da Sarocco di Capodimonte, il mondialito, settima edizione, decima giornata, Sean in Socio e batte Ranno Celle, 6 a 1, migliore in campo, Salvatore De Marino, consegniamo la medaglia, complimenti, anche Lino Arichiello, l'altro migliore in campo, battiamo proprio da lui, Lino, vabbè, sempre della stessa squadra, abbiamo fatto due organizzioni, Lino, partita, giocata dalla parte vostra, molto bene, avete battuto di Vino in classifica, i campioni in carica, 6 a 1, risultato da poco, loro sì, erano un po' nebbosi, non hanno giocato bene, però poi vinta, cuore, soprattutto cinismo anche davanti alla porta, una vittoria stratosferna, diciamolo sì. Secondo me l'hanno dimostrato che sono bravi, però penso che sono stati meno bravi anche grazie a noi, gli avversari sanno giocare a calcio, però l'abbiamo dimostrato che sappiamo giocare bene, anche noi se giochiamo concentrati, a noi ci manca la testa, non i piedi, che è la cosa che tu hai, questo è il mio pensiero. Senti, sì, se giocavate così anche le altre partite, soprattutto le ultime, che siete un po' venuti meno, non dico che vincevate la regola season, però stavate almeno lì tra i 3-4 posti. Sì, abbiamo fatto 3-4 pareggi agli ultimi proprio secondi, secondo me anche due meritati, meritavamo qualche punto in più rispetto a quello che abbiamo adesso, però guardiamo i punti che abbiamo oggi, che ragionare col segno 2 non serve, secondo me possiamo avere comunque buone possibilità di fare un bel torneo, fino alla fine rimanendo concentrati in questa maniera qua. Va bene, passando a Salvatore, Salvatore, sempre tu che salvi la tua scuola di muta e subostanza, ottime pagate, raccontaci un po' le tue emozioni per questa bellissima vittoria. Diciamo che è stata una lettura molto sofferta, soprattutto nel primo tempo, siamo andati 1-0, poi ci siamo chiusi, come hai detto tu, ho fatto alcune parate, ma soprattutto la difesa ha fatto una fila fantastica e quindi va a loro. Senti, va bene, adesso c'è ancora la speranza per la Champions League, l'obiettivo è ancora lì, ultime due partite chiavi, tanto recupero, ve la potete giocare fino alla fine per l'accesso. Noi cerchiamo di vincerle tutte, entriamo in campo per vincere, poi si vedrà. Va bene ragazzi, vuoi fare una tendica speciale a qualcuno, tutti e due? Sì, a mio fratello, io a mia zia. Ok, ciao ragazzi.